Salve a tutti ragazzi, eccoci qua in una nuova puntata chiamata come volete di questo fantacalcio e ragazzi mamma mia che sudata, che sudata, andiamo a vedere subito le partite che si sono svolte bella giornata, devo dire molto bella, questa veramente, devo dire che è stata una bellissima giornata allora, Salernitana contro il nostro Valex, guardate che partita, cioè guardate ci sono stati 9 gol e ripeto 9 solo in questa partita, vittoria comunque schiacciante nonostante i 3 gol di Salernitana cioè Valex aveva già vinto dopo le prime due partite della Serie A, dopo le prime due partite aveva già mi pare 4 gol va bene, ok, allora entrambi con portieri imbattuto, poi Ferrari, gol, Ferrari, va bene, ok Boateng gol, ci sta, Gervinio, grande gol, perché è stato un gol veramente bello, ha fatto gol Iguain ha fatto gol inglese, tutti e tre gli attaccanti, più un centrocampista, più il difensore, più il portiere imbattuto cioè la perfezione, quindi tenata di culo stavolta la prossima, dubito, perché se non è che puoi sempre andarti bene anche Salernitana comunque ha perso 6-3 ma ha giocato bene, perché comunque portiere imbattuto, doppietta di immobile gol di Piatek, che i ragazzi stoppiate che sta, segna sempre entra De Ron nella panchina, poi tra l'altro guardate in panchina, Salernitana fa il Cinelli l'assist Valex li segnano anche dalla panchina, cioè, gol e assist per Piazza, gol e due assist per Di Francesco di cui il gol era da annullare, va bene, questo è un altro discorso e finisce a 77-88,5, cioè 88,5, entrambi hanno fatto tanti punti, peccato per Salernitana che si è ritrovata di fronte un Valex molto, ma molto sculato ragazzi altra bellissima partita, Cubra per Pescara Manzia, quando vedrete il totale veramente, io non oso mettermi nei panni di Pescara Manzia allora ragazzi, una pera per Stracoscia, due per Cragno li segna Milenkovic, Milenkovic e Milinkovic e anche un assist di Milinkovic, assist di Veretout e gol di Cristiano Ronaldo per Cubra abbiamo il gol di Chiesa, il gol di Buonaventura, gol di Gomez e dopo 500.000 anni il gol di Belotti su rigore ma almeno Belotti su rigore ha segnato il mio, i cazzo di ricordi ancora no comunque, ragazzi, una delle poche volte che un attaccante fa gol e gli danno 6,5 invece che 7 perché di solito chi fa gol gli danno sempre un 7 sia a Belotti, che comunque ha segnato su rigore sia a Cristiano Ronaldo dalla panchina entra Quagliarella per Cubra ragazzi, e qua Pescara Manzia si mangia le mani perché insignia in panchina con una doppietta anche Mattiello ha fatto gol ma vabbè, chi lo sa, cioè chi poteva immaginare di Mattiello ma insignia, doppietta e dai, insignia in panchina va bene risultato finale 79 a Cubra quindi il quarto gol è a 78 e guardate qua 77,5 cioè per 0,5 Pescara Manzia non arriva al quarto gol non arriva al quarto gol, ragazzi quindi perde 4-4 a 3 per 0,5 punti una cosa veramente da mettersi le mani nei capelli poi abbiamo la prima vittoria del nostro Carter che vince 2-1 su Mendoza e come vince, ragazzi, anche qui non per i punti ma per i secondi perché adesso ve lo faccio vedere due gol presi da Donnarumma un gol preso da Udero per fortuna perché credo che comunque Mattia sia contento che Udero abbia preso gol visto che era contro la nostra Inter gol di Brozovic gol di Lasagna dall'altra parte assist di Parolo e gol di Bernardeschi a vedere così a prima vista sembrerebbe vincere Mendoza perché due gol da una parte un gol e un assist dall'altra attenzione perché chi entra dalla panchina dalla parte che Andreva e Petagna dall'altra Verdi con un bel gol quindi due gol da una parte e un assist e dall'altra due gol come finisce? 68 e mezzo a 73 ma perché vince, ragazzi? il nostro caro Bernardeschi ha segnato praticamente come sapete all'ultimo secondo della partita e grazie a questo gol segnato all'ultimo secondo Kartal si porta a casa la vittoria perché fino a quel momento erano comunque in pareggio un gol e un gol poi Bernardeschi ha fatto gol e gli hanno aumentato il voto il bonus e via che così vanno i primi tre punti al nostro Kartal ragazzi Danilo si ferma ma chi lo ferma ragazzi? il nostro Stefano il nostro Stefano che fino all'altro giorno aveva zero punti questa è la seconda è un risultato utile consecutivo e spero che il prossimo pro te fermi perché sei conto di me giusto per allora ragazzi quindi il hashtag Danilo sculato è finita perché? e adesso andremo a vedere il perché Olsen prende due pere Ospina uno assist di Lirola assist e gol di De Paul che si sta dimostrando un bomberaccio non so da quando Mertens assist Rigoni gol e dalla panchina entrano in Kuru e d'altra parte Vecino tra l'altro lascia due gol e due assist di Suso in panchina il nostro Danilo e finisce 69 e mezzo a 68 ricordo che per avere il secondo gol bisogna fare 70 punti quindi Danilo per 0,5 non arriva al secondo gol e pareggia ragazzi quindi non è più hashtag Danilo sculato ma è hashtag Cubra sculata perché? perché Cubra riesce a vincere per 0,5 Danilo non riesce a vincere per 0,5 e poi l'altra partita è ragazzi finalmente una vittoria veramente sofferta io che vinco 1-0 contro Brutta Zitella tre punti fondamentalissimi e dopo vedremo perché nella classifica e ragazzi qua c'è un Silvico che si prende tre pere contro uno scese di imbattuto partiamo già male comunque sono tutti sui 6 6-6 6 e mezzo bla 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 io per fortuna Zapata mi fa un assist poi Zapata è andato molte volte vicino al gol e gli facevano i cazzo di miracoli anche sulla linea dall'altra parte però non ha segnato nessuno e gli entrano Biglia e Eceric cosa che io non sapevo che anche se un difensore come lui che non ha giocato a Denan gli entra comunque anche un centrocampista quindi gli può entrare chiunque ok? si va a vedere prima i difensori poi i centrocampisti e poi gli attaccanti quindi magari un difensore non entra sti cazzi ti entra un attaccante quindi sapendo questo giocherò anche su questa cosa qui dall'altra parte da me ho un assist e per fortuna o per sfortuna Pavoletti non ha giocato per problemi alla schiena credo credo che però della prossima ci sarà e mi entra Caputo che io avevo cambiato all'ultimo secondo avevo messo Pavoletti Icardi Caputo lasciando Zapata in panchina e alla fine ho messo Zapata titolare Caputo in panchina cosa fa? mi segna al primo minuto ma porca puttana poi Pavoletti si è sentito male per la schiena è entrato Caputo e per fortuna anche Zapata mi ha fatto l'assist e mi entra Di Marco ragazzi che ha preso un bel 6 e mezzo risultato finale 68 a 64.5 1 a 0 perché il primo gol è a quota 66 punti quindi gli mancava ancora un punto e mezzo quindi ragazzi questi sono i risultati la classifica è la seguente e vedete Kubra prima volta in testa solitaria con 15 punti e anche più punti totali di tutti secondo Danilo che si è fermato col pareggio a 13 punti Valex Rossi con la vittoria si avvicina a Danilo ma rimane sempre a 5 punti di distanza da Kubra ed è terzo solitario io grazie a questa vittoria proprio sudatissima sono al quarto posto in solitaria quindi ha un punto da Valex e recupero due punti da Danilo quindi ragazzi speriamo che vada sempre meglio poi abbiamo a 6 punti Salernitana Pescaramanzia Cartal e Stefano che guadagnano posizione e vanno settimi e ottavi e poi ci abbiamo Brutta Zitella a 9 e Mendoza in ostomattia a 3 punti prossima prossima giornata sarà Valex Rossi contro Danilo ragazzi e questo è fondamentale perché ci sono 3 punti di differenza tra Danilo come potete vedere tra Danilo e Valex Rossi quindi Valex dovrebbe dovrà per forza vincere se vuole agganciare Danilo e io spero e io spero che o vinca Valex o che al massimo pareggino perché così posso guadagnare punti anch'io io sarò contro Stefano che da due risultati utili consecutive io sto molto faticando speriamo bene ragazzi derby in casa bellissimo tra il nostro cartel e la nostra cubretta poi ci sarà scontro diciamo chiamiamolo di salvezza per adesso tra Brutta Zitella e Mendoza e poi scontro tra i due che hanno 6 punti tra Pescaramazia e Srenitala si scontrano le due squadre che hanno 3 punti e le due squadre che hanno 6 punti se non sbaglio Brutta Zitella e Mendoza hanno 3 punti infatti si o quindi ragazzi scontri super per la prossima giornata ragazzi quindi non mancate io vi continuerò a tenere aggiornati e per questa o questo puntata del fantacalcio è tutto noi ci vediamo alla prossima che tra l'altro è tra domani praticamente domani si inizia già con la prima partita dell'Inter quindi io giovedì se non sbaglio giovedì mercoledì fanno tutte le altre partite giovedì farò l'altra puntata rimanete sintonizzati e noi ci vediamo un saluto a tutti e ciao ragazzi